Ciao a tutti! Oggi prepareremo il tacchino tonnato con yogurt greco. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 60 minuti. Gli ingredienti sono yogurt greco, tonno, capperi, olio, acciughe, cipolla, carote, sedano, dado bimbi, un pezzo di fesa di tacchino in un unico pezzo, spezie, sale, pepe e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Andiamo a mettere all'interno del boccale l'acqua. Prendiamo il sedano, la carota e la cipolla che sono appesi. Un cucchiaino di dado bimbi e mezzo cucchiaino di sale. Andiamo a cuocere per 8 minuti a varoma, velocità 2, due, velocità 1. Nel frattempo mettere le spezie nella carne e massaggiarla. Adesso andiamo a mettere la fesa di tacchino così sulle lame all'interno del boccale. e andiamo a cucinare per 20 minuti. 100 gravi, anti-orario, velocità soft. girare adesso la carne e cuocere per altri 20 minuti. Sempre 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La carne è pronta. Adesso andiamo a toglierla dal boccale e a lavare il boccale. Adesso inseriamo all'interno del boccale il tonno, i capperi, le acciughe e lo yogurt. Chiediamo con il coperchio e tridiamo per 15 secondi a velocità 4. Adesso andiamo a mettere 20 secondi a velocità 5 e immediatamente versiamo l'olio sul coperchio per farlo scendere lentamente. La nostra salsa è pronta. Adesso andiamo ad affettare la carne e ad impiattarla. Stacchino tonnato con yogurt greco. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!